Oggi è la giornata nazionale della medicina del lavoro. Per parlare più approfonditamente di questa specializzazione e dell'importanza della prevenzione, abbiamo con noi il professor Francesco Saverio Violante, ordinario di medicina del lavoro all'Università di Bologna e past president della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Benvenuto. Grazie. Chiariamo innanzitutto che cosa fa il medico del lavoro esattamente. Il medico del lavoro è lo specialista che si occupa della salute di chi lavora. Quindi non soltanto a livello di prevenzione di infortuni e malattie professionali che sono gli eventi che tutti quanti conosciamo per quanto riguarda possibili effetti negativi dell'attività lavorativa sulla salute delle persone, ma anche della promozione della salute di chi lavora. In estrema sintesi possiamo dire che come il pediatra è lo specialista che si occupa di noi quando siamo bambini, il medico del lavoro è lo specialista che si occupa di noi quando stiamo lavorando. Ancora troppi in Italia gli infortuni sul lavoro. Qual è la situazione della prevenzione che comunque è migliorata negli ultimi 50 anni? Sicuramente migliorata. Soltanto per citare un dato come indicatore della strada che abbiamo fatto dal passato ad oggi. Negli anni 60 l'INAIL riconosceva ogni anno 1500 infortuni mortali in media. Oggi quegli stessi infortuni mortali sono ridotti a circa 500. Sono evidentemente ancora troppi perché non possiamo pensare di uscire di casa per andare a lavorare e non tornare più perché abbiamo perduto la vita in un incidente lavorativo. Ma ci dicono quanta strada abbiamo fatto. Però c'è un problema che vorrei sottolineare, che è il problema di salute più grosso dei lavoratori, di chi lavora in Italia. ed è la mortalità differenziale per gruppi di professioni. Ci sono, ad esempio, soltanto per indicare in estrema sintesi, i lavoratori manuali poco qualificati che vivono 5 anni di meno dei lavoratori intellettuali qualificati. Questa è una forbice che bisogna chiudere e purtroppo l'intervento pubblico che è essenziale è carente. Ecco, molto brevemente, il Covid ha avuto ripercussioni anche per quanto riguarda la medicina del lavoro. Assolutamente. Quello che si è potuto vedere durante quest'anno e mezzo di pandemia è un cambiamento dell'attività del medico del lavoro che prima, come attività più visibile a livello delle aziende, aveva la sorveglianza sanitaria, mentre durante quest'anno e mezzo è stato, ed è ancora oggi, a fianco delle comunità aziendali per contrastare la pandemia. Grazie, grazie al professor Francesco Saverio Violante. Grazie.